Benissimo, buongiorno a tutti, grazie per questo invito che mi ha riempito di curiosità e di voglia di raccontare. Mi occupo di creatività e di comunicazione da ormai 40 anni veri, ho fatto diverse cose, ho scritto dei libri, se qualcuno ne ha curiosità poi trova degli esemplari al banco della reception, ho fatto comunicazione per migliaia di clienti, ho provato a insegnare a dei ragazzi, ho aperto da qualche anno un sito che si chiama Nuovo e Utile, e torneremo su queste due parole, che raccoglie, che parla di teorie e pratiche della creatività e raccoglie idee ed è un sito no profit, quindi non ci guadagno nulla, non ospita pubblicità, è molto frequentato da ragazzi, da imprenditori, da insegnanti che cercano strumenti, idee per le loro classi di scuola eccetera. Credo che ciascuno di noi debba fare qualcosa per aiutare questo paese a trovare nuove prospettive, io metto alcune cose che so gratuitamente al servizio delle persone attraverso questo sito. Perché vi dicevo tutto questo? Per darvi un'idea della prospettiva da cui oggi cercherò di fare un lavoro un po' diverso dal solito, invece che prepararmi una lezioncina di 40 minuti, questo intervento durerà tra i 30 e i 40 minuti, da presentarvi, raccontandovi con una serie di liste appunti quali sono le teorie e le pratiche della creatività più rilevanti, ed è una cosa che si può fare, ma lascia un scivola via, sono teorie che uno osserva, in cui magari riconosce dei pezzi della sua esperienza quotidiana, ma sono parole. Ho pensato invece di fare un altro lavoro più azzardato, che è quello di ascoltare i tre interventi che mi hanno preceduto, cercando poi insieme a voi, in tempo reale, vediamo che cosa succede, di ritrovare dei fili e di riconfigurare queste tre esperienze in un discorso che racconta che cosa sia la creatività nell'impresa. Ci proviamo insieme e vi chiedo per cortesia di interrompermi con delle domande brevi, a cui cercherò di rispondere. Se riusciamo a fare un percorso condiviso in questa mezz'ora, forse viene fuori una cosa che ci è più utile a tutti, che ci incuriosisce di più e che magari ci ricordiamo meglio. Dunque, abbiamo avuto tre storie molto diverse, sono tre storie di imprese non grandi, ma sappiamo che il tessuto industriale italiano è fatto di piccole e medie imprese, alcune straordinarie, e che da una parte la fragilità del tessuto industriale italiano sta proprio nelle dimensioni, ma dall'altra anche la sua flessibilità sta nelle dimensioni piccole o medie delle imprese. La prima cosa che volevo segnalarvi è che tutti dicono le imprese italiane devono accrescersi di dimensioni per poter competere all'estero, eccetera. Gonfiarsi fino a diventare obese e incapaci di reagire velocemente agli scossoni del presente e del futuro è la soluzione più ovvia, ma forse non è l'unica soluzione. Quello che sta succedendo qui oggi ci dice che ci sono altre soluzioni, cioè si possono raggiungere dimensioni interessanti e rilevanti anche facendo sistema e confederandosi tra imprese, mettendosi insieme tra piccoli o medi per ottenere massa critica. Io credo che questa strada che è ancora poco percorsa in Italia, che potrebbe essere sempre più percorsa, che andrebbe sperimentata in un paese che ha fatto dei campanili e della divisione uno dei suoi motivi e della polemica, uno dei suoi tratti identitari. Ecco, io credo che questa strada del mettersi insieme su obiettivi possa essere molto interessante per le imprese italiane, del mettersi insieme per sviluppare sinergie tra imprese che appartengono alla stessa industria o a settori contigui e interagenti. Abbiamo avuto tre imprese molto diverse fra loro che però hanno un filo che le lega. Sono tre imprese innovative in tre campi molto diversi. c'è la tecnologia di Tecnogim, che però è una tecnologia che esce dall'ambito tradizionale e torna ad occuparsi dei corpi e torna ad occuparsene compiendo un salto logico. Cioè torna alle radici, si parlava prima di mensa sana e incorpore sano, torna alle radici del benessere e gli dà una nuova espressione e nuovi strumenti per esprimersi. Non è un percorso lineare se ci pensate, partiamo dalla tecnologia, arriviamo al corpo, torniamo a un'idea antica di benessere, gli diamo un'espressione nuova. Ecco i percorsi creativi e per ciascuna delle cose che vi dico vi tirerò fuori qualche piccolo insight sulle teorie della creatività e le dinamiche della creatività, raramente i percorsi creativi sono lineari. La creatività consiste proprio nel fare delle svolte, nel prendere un altro sentiero, nel prendere una strada inaspettata, nel girare un angolo. Nel fare, e ci torneremo qualche volta, una cosa controintuitiva. E il secondo punto che volevo segnalarvi, perché questo è un grande equivoco che corre in giro, è che la creatività non è fare cose bizzarre. Ho conosciuto tanti grandi creativi, li vedete, sembrano persone normalissime, rifidate di quelli che si vestono da creativi o che hanno dei comportamenti fuori dalle righe. Creatività significa non fare cose bizzarre, ma fare la cosa giusta, nel momento giusto e nel modo più efficace. Ed è molto più difficile. A trasgredire sono bravi tutti. A fare la cosa giusta bisogna essere molto, molto, molto più bravi. E a farla nel momento giusto, catturando l'attimo, bisogna essere veramente lucidi e visionari. Quindi diffidate delle bizzarrie fino a se stesse. Primo punto. Tecnogym parlava di un progetto che nasce da una specifica, ne abbiamo appena accennato, cultura di imprese, e che è consistito nell'inventare un nuovo settore. Sappiamo che la creatività può applicarsi sia ai prodotti, sia ai processi. E spesso la creatività applicata ai processi è ancora più rilevante, perché porta dei benefici inaspettati, è ancora più rilevante di quella applicata ai prodotti. Vi racconterò solo un piccolo fatto che ogni volta che ci penso mi fa venire la pelle d'oca. Una decina di anni fa, un medico americano si interroga sulla mortalità in sala operatoria, che continua a essere molto alta. E si fa una domanda e dice, ma come mai noi abbiamo questa mortalità operatoria e post-operatoria molto alta? E si accorge di una cosa rilevante, che tutta la sequenza delle operazioni che vengono fatte in sala operatoria, che è molto complessa, sono operazioni semplici, ma sono tante e vanno fatte in sequenza da persone diverse e la loro sequenza è complessa, è tale da far sì che se un'operazione, anche elementare, viene dimenticata, poi succedono dei guai. Si domanda chi altri lavora in questa maniera e si rende conto che c'è un'altra categoria di persone in un settore diversissimo che ha questo tipo di problemi e sono i piloti delle fortezze volanti, i piloti degli aerei della guerra americani, che proprio per compiere nella giusta sequenza, senza dimenticarsene nessuno, tutte le infinite operazioni che servono per avviare uno di questi mastodonti, si fanno delle checklist, delle liste di controllo e quindi svolgono ogni volta in sequenza tutte le operazioni senza affidarsi alla propria memoria usando queste liste di controllo. Questo signore piglia le liste di controllo e fa una lista di controllo per la sala operatoria. All'inizio viene accolto lo scetticismo e la noia dei colleghi, insiste e scopre che riesce a ridurre la mortalità post-operatoria in maniera drammatica, ve la faccio breve, nel 2009 se non sbaglio, questo signore entra nelle 100 persone più influenti al mondo identificate dalla rivista Time. Oggi le sue liste di controllo sono applicate in tutti gli ospedali del mondo e in gran parte degli ospedali italiani, quindi possiamo stare più tranquilli. È un'innovazione di processo, è un'innovazione semplice, non è costato niente mettere le liste in sala operatoria. ha fatto risparmiare un sacco di soldi per le complicazioni e un sacco di vite. Ecco, la creatività qualche volta consiste nel farsi la domanda che nessuno si era mai fatto prima. Che cosa non funziona in questo processo? Come può essere migliorato? Non è detto che la creatività passi sempre dagli investimenti, passi sempre dai soldi, passi sempre dall'hardware, passi sempre dalla pesantezza. Qualche volta per cambiare le cose basta un'intuizione molto semplice. Tecnogine parlava anche di concetto olistico, di un'impresa, di una proposta di prodotti, di un'idea creativa. Significa tenere tutto insieme, avere uno sguardo di insieme. Spesso quando noi osserviamo noi stessi, la nostra produzione, il nostro mercato, i problemi di tutti i giorni, siamo più portati a guardare ogni singolo dettaglio, a focalizzarci su ogni singolo dettaglio. Ogni tanto fare un passo indietro e recuperare la visione di insieme è un buono strumento, può essere un buono strumento per avere una visione creativa e capire dove esistono dei vuoti, dei pieni, delle debolezze, delle aree di miglioramento. Quando siete troppo con la testa dentro un problema, tiratela fuori e fate un passo indietro. E magari camminateci sopra. Camminarci sopra significa fisicamente camminare. Anche questo è un modo semplicissimo di affrontare i problemi. Nella mia professione, io ho buttato fuori dall'ufficio della gente che non riusciva a farsi venire un'idea. Dicendo, allontana, ti vai fuori, vai a farti un giro, passa due ore al bar, torna indietro dopo. Sembra controintuitivo buttare fuori, dire alla gente smetti di lavorare se non riesci a farti venire un'idea. Ma spesso è il modo per farsi venire un'idea. Quindi entrate ed uscite dal vostro problema quando avete un problema, staccatevene, riguardatelo, cercate nuove prospettive. Ed arriviamo a un altro punto. Quando Tecnogim ci dice che la creatività è la loro vera nuova tecnologia, sta dicendo una cosa importante, che la capacità di sviluppare nuove idee creative sta veramente alla radice di qualsiasi nuova cosa che possa fare l'azienda. E che cos'è? Da dove nasce la capacità di sviluppare nuove idee creative? Dal vedere delle opportunità e da dove nascono le nuove opportunità? Di nuovo, dall'arte di farsi delle domande. Altro piccolo insight. Lavorando in tutti questi anni con clienti di tutti i tipi, mi sono accorta che le imprese, proprio perché sono energiche, ansiose di risolvere i problemi, tendono a cominciare a darsi tutte le risposte prima di essersi fatte tutte le domande rilevanti. E io ogni volta devo dire fermi un attimo, non dirmi come vorresti la mia risposta. Prendiamoci del tempo, aiutami a farti le domande giuste, perché non hai detto che la prima risposta che ti è venuta in mente sia quella giusta e non hai detto che sia quella giusta perché forse non ti sei ancora fatto le domande giuste. Questo è un altro grande difetto italiano. Noi tendiamo a correre per entusiasmo, energia, voglia di risolvere i problemi verso le soluzioni, trascurando spesso, lo fanno i nostri ragazzi quando fanno le tesi, lo fanno le imprese quando cercano di uscire, di cavarsi da un problema, trascurando un lavoro preliminare di messa a fuoco del problema. Tutte le tecniche di problem solving ci chiedono di definire bene il problema e se le soluzioni trovate non sono soddisfacenti bisogna fare un passo indietro e ridefinire il problema. Ridefinire il problema significa farsi domande. È più importante un'attività che si chiama problem finding, scovare i problemi. Una volta scovato bene il problema, definito bene il problema, risolverlo diventa facile. Credetemi, spesso il gesto creativo più rilevante è fare la domanda giusta, definire bene il problema. Una delle leve sulle quali io agisco, essendo una vecchia volpe, coi miei clienti è che li aiuto a definire bene il problema e spesso mi guardano spalancando gli occhi. Quindi davvero, se posso condividere con voi una tecnica e se potete portare a casa una tecnica, portatevi a casa questa. Non abbiate così fretta di arrivare alla soluzione, fermatevi un attimo, pensate e pensate a quali sono le vere coordinate del vostro problema, quale esso sia. E pensate che forse può esserci una soluzione molto semplice, leggera e controintuitiva che magari può venire da un campo totalmente diverso. Pensate alla faccenda degli ospedali e delle liste di controllo delle fortezze volanti. Ci sono mille altre storie divertenti di questo tipo, ma credo che basti solo una. Questo significa che nel momento in cui nasce un prodotto, quale esso sia, nell'idea di base di quel prodotto, deve esserci anche contenuta la cosa che di quel prodotto può essere detta. Mensane in corpore sano, tecnologia al servizio di un sviluppo armonico del corpo. Queste sono le parole che potrebbero stare dentro la filosofia di offerta di Tecnogym. Nel momento in cui riusciamo a formalizzarla con parole autentiche e possibilmente non con formulette che sembrano tirate fuori dal catechismo dell'innovazione, ecco, possiamo essere certi che un prodotto abbia una consistenza ed è una consistenza di offerta che può diventare narrazione, che può diventare comprensione da parte dei suoi destinatari. Senza comunicazione, dunque, senza possibilità di essere comunicata, non esiste un'offerta. Senza possibilità di essere capita, non esiste un'offerta. Questo significa che un buon modo per testare un'idea, una nuova ipotesi di offerta sta nel raccontarle in pochissime parole, possibilmente, appunto, dicevo, consistenti. Questa è anche la pietra di paragone di qualsiasi narrazione. Ok, hai progettato un nuovo romanzo, stai pensando a un nuovo film, stai pensando a una serie televisiva, dimmela in tre parole. Questa è la sfida di tutti gli autori. Se non è sintetizzabile in tre parole, non c'è. Allora, andare a cercare il nocciolo è un'operazione difficile, ma è solo quando un'azienda ha un nocciolo forte in mano che può pensare di avere un'idea creativa vincente. Alcenero è il secondo angolo di questo ideale triangolo fra aziende innovative e diverse, ma unite da una forte capacità di crescere e di portare avanti un'idea originale. Se Technogym lavora sul campo della tecnologia del futuro con radici del passato, Alcenero ha dalla sua una forte, intensa e consapevole riscoperta della tradizione, della miglior tradizione dell'agricoltura, certo, ci sono i trattori, la gente non va più con la zappa, ma c'è il biologico, c'è la ricerca dei grani migliori e probabilmente di specie anche non così sfruttate. quindi c'è una strana commistione di consapevolezza contemporanea e di attività antiche anche se fatte in modo nuovo. Massimo Monti ci diceva da noi la creatività è nella struttura aziendale, in un altro posto ancora, cioè in un'azienda che si configura non come una tradizionale azienda agricola, non come una tradizionale azienda di distribuzione e probabilmente in questo sta la sua forza. Questo significa che un'altra cosa rilevante è che non dobbiamo essere creativi dalla punta dei piedi alla cima della testa, che non dobbiamo essere creativi dalla mattina alla sera, alla notte e tutti i giorni, che ciascuno trova il suo ambito di espressione creativa e che la creatività si può esprimere in mille modi diversi e in mille misure e dimensioni e forme diverse. Fino a pochi anni fa in Italia la parola creatività era una parolaccia, si parlava di finanza creativa per dire finanza truffaldina, si parlava di non mi venire fuori con delle idee creative per dire non venire fuori con delle idee valore, eccetera. Finalmente, i buoni ultimi, perché negli altri paesi del mondo e anche del farista la creatività è stata valorizzata già negli ultimi decenni, finalmente anche noi siamo arrivati a pensare e questo incontro di oggi ce lo dimostra che la creatività sia una cosa importante però tendiamo a pensarla come un'attività magica e stravagante non è così. Ecco, Massimo Monti parlava anche di base valoriale la creatività non come sovrastruttura di pura forma seduttiva mettere cose assieme in modo nuovo. Il primo a teorizzare le dinamiche e i processi della creatività è stato un matematico ai primi del novecento si chiamava Henri Poincaré e racconta a un certo punto come fanno a venirgli in mente idee nuove e dice la mente vaga e corre fra tanti elementi diversi che già esistono e che prova a combinare vagando e vagando a un certo punto trova solo alcune combinazioni che sono inedite mai esistite prima e che sono nuove e che sono utili e come faccio a capire che queste combinazioni siano utili e che mi appaiono immediatamente belle. Ecco le belle combinazioni cioè quelle che sono nuove e utili sono i materiali costitutivi di qualsiasi atto creativo ma come dicevo prima possono appartenere alla forma dell'azienda così come al concetto di un di un prodotto a proposito di forma aziendale un altro tema rilevante sollevato da Massimo Monti riguarda il gestire della creatività vi dico alcune cose che forse possono essere interessanti prima di tutto sui gruppi creativi hanno fatto una quantità enorme di studi e sul funzionamento dei gruppi creativi hanno fatto una quantità enorme di studi la Harvard Business School e in particolare una docente che si chiama Teresa Amabile che è andata a monitorare per anni gruppi creativi di diverse di diverse imprese in diversi ambiti di attività per vedere come funzionavano sono venute fuori alcune regole di base i gruppi creativi non possono essere né troppo piccoli cioè più di tre persone né troppo grandi teoricamente devono essere meno al massimo nove o se possibile meno troppo piccoli non riescono ad attivare dinamiche al loro interno troppo grandi diventano ingestibili pensate ai comitati che vengono spesso anche dalle pubbliche amministrazioni messi insieme sono fatti di 40 persone quella roba lì non funzionerà mai quindi piccoli gruppi il più eterogenei possibile eterogenei per età per sesso per formazione per cultura tutto ci dice tantissime evidenze di ricerca ci dicono che se voi prendete sette esperti assolutamente identici dello stesso tema e fate un gruppo di sette persone di cui uno o due siano esperte di cose analoghe ma non della stessa e gli altri di altre cose ancora il gruppo più eterogeneo funziona molto meglio non funzionano solo gruppi di giovani non funzionano solo gruppi di vecchi mettete insieme l'età mettete insieme i sessi mescolate così potete avere dei gruppi particolarmente rilevanti le persone creative di solito sono workaholic è difficile non farle lavorare farle smettere sono così innamorata del loro lavoro che continuerebbero a rifinirlo lasciategli la possibilità di lavorare quando vogliono dategli però tempi di consegna certi e negoziateli prima per gestire gruppi creativi anche questo ce lo dice Teresa Amabile non c'è bisogno di un management creativo anzi se il management vuole infilarsi dentro il gruppo creativo facendo una gara di creatività di solito scombina tutto il buon management di gruppi creativi è quello che li mette in grado di lavorare il meglio possibile garantendo le risorse negoziando i tempi con l'impresa e proteggendo il loro lavoro i gruppi creativi non sono fatti di bestie feroci sono fragili però hanno bisogno di essere rispettati protetti orientati attraverso pochi vincoli molto chiari mai dire ma no forse vediamo magari è meglio dare pochi sì pochi no molto chiari il primo dato che deve essere chiaro sono i tempi e questo vale per qualsiasi impresa lavori con gruppi creativi se poi il creativo è il boss ci sono ci sono degli altri problemi ma anche in questo caso la creatività è una risorsa che va non tanto governata va accudita e qualche volta riallineata sugli obiettivi aziendali perché altrimenti uno tende ad andare sempre oltre d'altra parte però è questo il suo bello è la sua energia perché nella tendenza ad andare oltre di solito si trovano opportunità che stanno appunto dietro l'angolo da un'altra parte che possono non essere sfruttate un altro punto rilevante sollevato da Massimo Monti riguarda il comunicare raccontando storie noi non consumiamo più solo prodotti non consumiamo la parte materiale dei prodotti consumiamo il loro significato altrimenti quelle sedie sarebbero uguali a qualsiasi altra sedia rendere chiaro questo significato aggiungere emozione aggiungere consapevolezza questo è il vero mestiere della comunicazione che lavora al servizio dell'impresa non è per niente semplice oggi che si parla e si straparla di comunicazione si tende a considerare una specie di polverina magica che va un pochino spalmare versata su qualsiasi cosa perché funzioni per questo da una parte le aziende tendono ad eccedere e a frammentare con i loro investimenti ad eccedere nel senso che vogliono comunque fare tante cose e non hanno abbastanza risorse per farle quindi frammentano e alla fine non riescono ad avere abbastanza risorse per fare bene un'attività di comunicazione i consigli che posso dare sono capite quante risorse avete focalizzatevi su poche aree cominciate da ciò che vi sta più vicino non ha senso per esempio pensare di fare comunicazione sui media classici senza avere un sito web più che adeguato non ha senso aprire 15 pagine fra facebook linkedin eccetera se poi non c'è qualcuno che le segue in maniera puntuale non ha senso aprire un blog se poi non c'è qualcuno che posta due volte al giorno una volta al giorno o almeno una volta ogni due giorni quindi si tratta di calibrare le risorse e di cominciare a fare bene tutto ciò che è molto vicino all'azienda allontanandosi man mano che le risorse crescono e andando a cercare interlocutori man mano che le risorse crescono un altro modo però è attirare gli interlocutori a sé attraverso un'offerta così seduttiva così particolare così accattivante che non è più bisogno di venderla vengono chiediti di prestargliela no? ecco l'ultimo punto sollevato da Massimo Monti riguardava che cosa possono fare le pubbliche amministrazioni per le imprese io credo che lui ha detto cultura in tutti i sensi io credo che aveva proprio ragione il rilancio di questo paese e su questo sarebbe bello che anche le imprese si schierassero e cercassero nuove alleanze con le scuole e con le università non può che avvenire nel tempo attraverso una sostanziale rivoluzione culturale una delle cose che non si riusciranno per esempio mai a far fare alle macchine è portare le piante però e lì sarà importante sviluppare e mantenere vecchi saperi e vecchie sapienze e sviluppare nuovi saperi e nuove sapienze per capire dove andrà il mercato del lavoro e dove andrà la produzione di imprese nei prossimi 20 anni in cui vi assicuro che cambierà tutto avremo l'intelligenza artificiale avremo il web semantico avremo una enormità di cambiamenti tecnologici che oggi non riusciamo a immaginare e bisognerà che noi e i nostri figli siamo molto molto attrezzati per affrontarli e per non restare ai margini due punti e poi finisco in quattro minuti su sulle cose dette da da vibrazioni al design hanno parlato di brivido hanno parlato di passione hanno parlato di emozioni hanno parlato di soluzioni controintuitive la creatività è un fatto emozionale la prova provata di un insight creativo cioè di un'illuminazione creativa di solito è una reazione fisica un brivido una pelle d'oca un trasalimento un lampo molto forte non c'è creatività che sia separata dalle emozioni per questo favorire a crescere stimolare la creatività non è solo un fatto di pagare i creativi anche se pagarli il minimo necessario perché vivano sarebbe una buona idea fra l'altro sono le professioni creative quelle che sopravviveranno al terremoto dei prossimi vent'anni perché sono solo le professioni creative quelle che i computer le macchine non riusciranno a fare quindi teniamoli vivi i nostri creativi perché saranno quelli che potranno continuare a lavorare se uno fa il commercialista è facile che fra vent'anni ci sia un software che fa il commercialista meglio di lui quelle robe lì al computer non si riescono a fare così come non si riesce a inventare un marchio al computer a farli inventare un marchio bello a un computer bello nuovo diverso semplicemente perché il computer lavora su una gallery di cose che ci sono già così come non si riesce a fare inventare un nuovo prodotto a un computer quindi questa gente deve poter vivere però i creativi non vivono di solo pane un ambiente favorevole un'attenzione sociale un rispetto sociale sono ugualmente importanti la capacità di vivere in posti che danno occasione per questo è anche importante il progetto di Ravenna città della cultura io mi auguro che comunque qualsiasi cosa succeda dei pezzi di intuizione sviluppati attorno a questo progetto restino per il territorio perché in questo modo possono crescere sia attività creative sia persone creative termino con una ultima nota a proposito di queste serie che sono bellissime pensate a quante soluzioni controintuitive stanno dentro questa storia di successo l'idea di prendere una roba che è sporca puzzolente vecchia e inquinante come un bidone di trattarla come se fosse è un rifiuto e torna a essere materia prima è un oggetto industriale e invece si trasforma in un oggetto per la casa è un oggetto duro e noioso la cosa meno un bidone cioè la cosa meno artistica che possiamo immaginare e diventa un pezzo d'arte pensate a quanta controintuizione c'è lì dietro diventa un pezzo d'arte che è seriale ma fatto di pezzi unici che è progettato da un artista ma realizzato dai saldatori allora le regole del gioco con un po' di energia un po' di coraggio e quel brivido sulla pelle che fa alzare che fa venire la pelle d'occa le regole di qualsiasi gioco possono essere sovvertite avendo in mente non per il gusto di sovvertirle ma avendo in mente un risultato finale ci sono ancora mille giochi da giocare e ci sono ancora mille regole da rinegoziare da modificare in modo controintuitivo per mettere insieme idee nuove belle e utili e su cui ci si può comodamente sedere grazie